Purtroppo non abbiamo potuto celebrare a pieno, anche se abbiamo svolto delle attività che hanno dato anche qualche frutto, però dobbiamo continuare, continueremo, soprattutto con la storia di Raffaello Bambino, che comunque ha creato molto curiosità e molto interesse, perché effettivamente Raffaello ha vissuto nella città da bambino, prima adolescente. Quindi questo progetto continua, continua un percorso collegato a Raffaello, probabilmente anche con degli eventi, una mostra sul Perugino, che è stato il maestro di Raffaello, come si sa, quindi vogliamo continuare questo percorso e riferirci sempre alla nostra città, che ha dato Natale a questo grande artista, che è forse il più grande al mondo, come dice sempre il mio prosindaco, sicuramente Vittorio Sgarbi, che dice Raffaello sicuramente è classificato in questo modo a livello internazionale. Quindi continuiamo queste celebrazioni sperando che questa pandemia finisca presto. Io mi auguro che quest'estate non ce l'avremo più. Il 2021 di Urbino parte anche con un vecchio obiettivo della città, l'accorciamento della distanza dalla costa, un salto in avanti sulla viabilità. Quali passi si può fare in questa direzione? I passi sono già avviati, da prima della pandemia, gennaio 2020 circa, abbiamo sottoscritto questo accordo con il sindaco di Pesaro sull'adesione alla Capitale della Cultura 2033, perché insieme ce la possiamo fare, e l'avvicinamento attraverso una viabilità adeguata tra Pesaro e Urbino sicuramente ridarà vita, non a Pesaro e Urbino solo, ma a tutto il territorio della nostra provincia. E questa Capitale della Cultura, Pesaro e Urbino, o Urbino-Pesaro, come la volete chiamare, sicuramente dà un'unicità, perché siamo l'unico capoluogo di provincia che sono due città insieme, è un unicum. Quindi questo è un altro plus che noi dobbiamo presentare a chi sarà giudice di questa assegnazione della Capitale Europea della Cultura. Se lavoriamo bene insieme questi 10-12 anni, 10 anni che ci separano dalla classificazione, sicuramente lavoreremo e avremo il risultato. Avremo questo risultato, come è noto noi siamo già candidati, siamo stati non classificati proprio perché mancavano le infrastrutture, e le infrastrutture sono un elemento importante, io non ne parlo mai perché è ora di farla, perché abbiamo una strada progettata nel 1970, sono passati 50 anni e ancora per venire da Pesaro e Urbino ci vuole un'ora qualche volta, quindi ecco, anche se sono pochi i chilometri. Quindi l'obiettivo del futuro è lavorare insieme a livello turistico, a livello appunto di avvicinamento del territorio e della grande opportunità di venire a vivere in questi territori. Oggi questa pandemia ci ha insegnato che si può lavorare a Milano e vivere nelle colline del nostro territorio. Questa è una grande opportunità che dobbiamo cogliere.